Mia figlia fa la prima, però adesso ancora no. C'è la terza, la quarta in quarantena che sono in dad. Speriamo in bene, si dice, perché anche i professori hanno il covid. Oggi non manca una prof, quindi i bambini escono un'ora prima, settimana scorsa sono entrati un'ora dopo e quindi, almeno per quanto riguarda la nostra classe, è tutto sotto controllo. Secondo te c'è stata un po' di confusione riguardo a quanto previsto per l'autosorveglianza, le quarantene, le modalità con cui si può tornare in classe? Sicuramente un po' di confusione c'è, perché ogni giorno c'è una novità, qualche nuova diritta da come comportarsi. Ci dobbiamo fidare di quello che ci dicono di fare e di farlo. Se non sono tanto chiare le regole sulle quarantene, tra alimentari, medie, tampone T1, tampone T5, quarantena fiduciaria, su questo sono molto complicate le norme. Chiudono per dieci giorni perché c'è un certo numero di alunni che sono positivi. Poi dopo torneranno a scuola dopo la quarantena, ma se si dovessero ripetere altri alunni con lo stesso problema, si richiude un'altra volta. Per cui ho sempre aperto e sempre chiuso. Chi è malato sta a casa, penso io, come se facevano una volta.